Senti un po', qua qualcuno dice, però pure voi, le volete tutte, non si capisce, qua qualcuno dice, ma la gente la vuol fare in diretta insieme a voi. Va bene, la pasta è buona. Va bene. Ecco qua, ecco qua, ecco qua, tutto a posto, tutto a posto. Beh, allora concludendo, riepilogando, ci siamo già capiti, stringiamo tutta cosa. Allora, noi intanto ci vediamo lunedì per il fitness show. Poi ci vediamo per la pastiera. No, giovedì mattina. Giovedì fitness show. Giovedì fitness show, poi per la pastiera. Parate per la pastiera, per la pastiera ci vediamo alle 11 di venerdì. E qui non si è capito se è alle 11 di mattina o alle 11 di sera, perché qualcuno dice pure alla mattina. Possiamo fare anche così. Allora, mercoledì sera, sempre alle 23, facciamo insieme a loro la pasta frolla, ok? Ah, vuoi fare in due puntate? Esatto, la mettiamo in frigo con due puntate, bravo. Così la facciamo più semplice. Tanto è una cosa veloce. Allora, quindi mercoledì... No, facciamo confusione.